Sarà compito della Commissione Tecnica trovare una soluzione al problema della movida rumorosa della zona di Piazza Muzzi a Pescara, dopo l'accusa mossa al Comune dal Comitato Tranquillamente Battisti per il mancato controllo sui locali notturni, che secondo le ultime rilevazioni ARTA avrebbero superato i limiti consentiti dal piano di risanamento acustico approvato dal Consiglio Comunale. Gli interventi da fare per mettere d'accordo tutti saranno dunque valutati dalla Commissione Tecnica che riunisce ARTA, ASLE e Comune, come ha ribadito al Tg8 il sindaco di Pescara Carlo Masci. Certamente è un tema caldo, ma che non riguarda solo la nostra città, riguarda tutta l'Italia, perché comunque si va a incidere sulla vita delle persone in senso economico o in senso sociale, di riposo, di salute. Per questo i comuni, che sono le entità che vivono direttamente i problemi dei cittadini, non possono chiudere gli occhi e devono fare delle scelte. Noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale un piano di risanamento acustico, un regolamento che prevedeva determinati passaggi. L'istituzione di una commissione tecnica per valutare gli interventi da fare. Prevedeva delle verifiche da parte dell'ARTA che sono state fatte e l'ARTA cosa ha rilevato? Che certamente rispetto al 2021 la situazione è migliorata, però i parametri di legge in determinate ore non sono ancora rispettati, perché il rumore supera la normale soglia di tollerabilità. Quindi c'è la necessità di approfondire l'argomento, fare ulteriori provvedimenti, cercando di non andare ad incidere in maniera pesante sulle attività, ma nello stesso tempo consegnando a coloro che vogliono riposare un ambiente che sia più consono. E quindi noi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo verificato anche quali possano essere gli interventi da fare in termini di occupazione di spazio pubblico, in termini di controlli. C'è anche una proposta da parte dell'Associazione Tranquillamente Bantisti di definizione della causa che è in corso attraverso determinati provvedimenti da attuare. Gli stiamo approfondendo per cercare di capire se questi provvedimenti possono essere accettati in un'ottica di condivisione generale. Concretamente quindi quali sono i prossimi passaggi? I prossimi passaggi saranno quelli che stabilirà la commissione tecnica che è stata nominata. Questa commissione valuterà la situazione attraverso i rilevamenti dell'Arta e nello stesso tempo troverà delle soluzioni che sono già indicate nel piano di risinamento acustico. Devono essere attuate per step e noi siamo pronti a farlo in base alle indicazioni che ci daranno. Sperando nella condivisione generale perché c'è chi vuole fare un'attività e c'è chi vuole riposare a casa propria. Chi fa un'attività deve rispettare coloro che vogliono riposare. Nello stesso tempo il Comune deve consentire di far svolgere le attività all'interno di un alveo di correttezza e di legalità.